Per quanto riguarda il numero 3000 ho notato che effettivamente è stata fatta una sorta di selezione per mettere il meglio del meglio per introdurre quindi anche ai nuovi lettori o appunto a vecchi lettori che non leggevano una volta quindi si prospetta anche di rivedere un futuro ancora più prosperoso in quanto a nuovi progetti e si potrebbe avere qualche anticipazione di qualche oggetto futuro lontano, questa è la prima La seconda invece ricorda un autore che almeno non ha affare è come un autore completo da un po' Lucio Leoni, ultimamente ho visto che è ritornato come disegnatore ma avremo mai la possibilità di vederlo nuovamente autore completo anche perché è stato sicuramente apprezzato il suo disegno appunto per il mira autocitando le sue storie Allora per i nuovi progetti mi avvalgo della facoltà di non rispondere anche in questo caso Per Lucio Leoni fa parte della nuova propria redazione anche quello Lucio in questo momento, credo proprio fino a giugno, stava lavorando ad altri progetti non per Disney per cui è per quel motivo che lo sta disegnando Tupolino Grazie Grazie Va bene, ringraziamo gli intervenuti, i nostri ospiti non prima di aver ribadito i complimenti per la storia di...